Ecco, Enrico Zenone, 19 anni, di Leffe, da quanti anni è che si dedica al CrossFit? Ormai è da un anno e mezzo che mi dedico a questa disciplina. E come sta andando? Per ora bene, mi sto allenando sulle 4 ore al giorno e riposo solo un giorno a settimana andando a correre per mezz'ora e il resto invece sono tutti i giorni di allenamento, quindi 6 su 7. Ecco, ricordiamo, il CrossFit è una disciplina che potrebbe essere definita di potenziamento? Sì, esatto. Non è come ad esempio il calcio, il nuoto o altri sport che si dedicano solo ed esclusivamente a un gesto atletico ma nel CrossFit si vanno a testare più gesti atletici che possono essere di potenza, di forza, velocità, resistenza e possono provenire dalla ginnastica, dal sollevamento pesi oppure anche dal nuoto stesso, dalla corsa e da altri gesti atletici che di solito si fanno nella vita quotidiana e può essere praticata da chiunque, sia dall'atleta che vuole trovare qualcosa di competitivo in cui cimentarsi come anche dalla mamma con quattro figli che vuole migliorare la propria condizione fisica e quindi il proprio stato di fitness ed è questo che rende il CrossFit una disciplina per tutti e quindi un ottimo modo per potenziarsi. Ecco, è salito sul terzo gradino del podio all'Italian Showdown a fine aprile a Bustor Sizzio. Esatto, sono riuscito ad arrivare al terzo posto dopo circa nove mesi di preparazione mi sono allenato anche lì sempre con lo stesso ritmo, quindi sei giorni di allenamento la gara è stata molto dura perché anche altri atleti che erano più esperti di me erano nella competizione però ciò nonostante sono riuscito comunque ad arrivare al terzo posto non avendo molta esperienza in gara mi ha penalizzato molto l'inizio in cui non sapevo bene gli standard dei movimenti mentre poi prendendo confidenza sono riuscito a migliorare comunque ad arrivare sul terzo posto. Obiettivi all'orizzonte? Allora, obiettivi all'orizzonte ovviamente è arrivare ai Games che sono diciamo il gradino più alto dove ogni crossfitter competitivo vuole arrivare vengono svolti in America dopo altre due fasi di selezione e diciamo che chi arriva fino a questo punto può definirsi uno dei uomini più in forma della terra.